Il rinvio dell'aumento dell'IVA è una solenne presa in giro. Per rinviarla di tre mesi hanno deciso di aumentare gli acconti IRPEF e IRIS di novembre. Per questo motivo la Lega Nord chiede fortemente al Governo di congelare definitivamente l'aumento dell'IVA. Sì, dei dati stessi pubblicati dal Ministero, cioè che nei primi cinque mesi di quest'anno il gettito IVA è calato del 6,8% di 2,8 miliardi rispetto ai cinque mesi del periodo dell'anno scorso. E' chiaro che si è innestato un circolo vizioso in base al quale all'aumento della pressione fiscale diminuiscono i consumi, si deprime l'economia e di conseguenza cala anche il gettito dell'IVA. E questo è evidente a tutti, a chiunque, e quindi noi facciamo questa domanda al Ministero per chiedergli cosa intenda fare per evitare questo circolo vizioso in cui ci siamo appunto avvitati. Non dimentichiamo anche che l'aumento dell'IVA grava soprattutto sui ceti popolari meno abbienti, che non possono comprimere i loro consumi. Cioè se una persona è ricca può rinunciare a qualcosa e quindi evitare questa imposta in più, il ceto popolare che spende tutto quello che guadagna per i beni di prima necessità, si prende in carico tutto l'aumento dell'IVA.